Sarà Veronica Maia, la bella conduttrice dello Zecchino d'Oro, a dare il vita quest'anno alla trentesima edizione della Vela Longa, che scende in campo per Teleton. La presentazione all'interno della BNL Paribas di Via Toledo. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato l'avvocato Alfredo Vaglieco, presidente della Lega Navale di Napoli. È stata una novità straordinaria, la Vela Longa cambia data e si disputa a favore della Teleton, confermando la disponibilità della Lega Navale alla raccolta fondi e al sostegno di questa straordinaria istituzione. In un unico evento sono ricompresi due appuntamenti tradizionali, quello della Vela Longa, che è oramai arrivata alla trentesima edizione, e quello della regata per Teleton, che la Lega Navale organizza oramai da più di venti anni. E a scendere in campo per la ricerca anche mille culure. In sinergia con la BNL saranno tantissimi gli atleti e gli sportivi che daranno il loro volto per la ricerca, tra questi Patrizio Oliva. Noi siamo orgogliosissimi che questa associazione, come voi tutti sapete, formata da grandi campioni dello sport, è vicina a questa iniziativa così nobile. Noi siamo felicissimi di essere partner insieme a BNL a partecipare a questa iniziativa per Teleton, per la raccolta fondi, che poi sarà destinata sulla ricerca delle malattie genetiche. Credo che questa sia importante perché è ancora una volta la dimostrazione che lo sport va a braccetto con queste manifestazioni, perché riesce a coinvolgere le persone, perché per il piacere di vedere i grandi campioni, noi poi li stimoliamo a fare un'offerta per questa nobile iniziativa.